La situazione continua in emergenza, sia di punti in classifica sia di infortuni, l'avete capito, parliamo di Inter, per noi da piano gentile c'è Massimiliano Nebuloni, Inter che ha anche il problema di Maicon infortunato, giusto Massimiliano? Sì, giusto, è un'altra tegola per Claudio Ranieri che ha preso circa mezz'ora fa dell'infortunio del brasiliano che starà fuori circa tre settimane e un mese perché si parla di stiramento di secondo grado al bicipite femorale della gamba sinistra, era uno degli interisti più in forma come si è visto ieri soprattutto nel primo tempo contro la Juve, dovrà fare a meno di lui nell'immediato sia mercoledì contro Lille che domenica a Marassi in casa del Genoa, poi ovviamente ci sarà la pausa di campionato che consentirà gli interisti di rifiatare per cercare di riordinare le idee e di risollevarsi da questo momento buio che non finisce mai. Sì, riagganciandomi ai temi appena visti in casa bianconera, qui all'Inter non c'era bisogno di Halloween per tornare a rivedere le streghe perché basta dare un'occhiata ai numeri di questo inizio di stagione che sono allarmanti come certifica la classifica, 8 punti nelle prime 9 giornate e come abbiamo sottolineato nei precedenti collegamenti se oggi il Novara e il Bologna dovrebbero essere entrambe vincere l'Inter scivolerebbe al terzo ultimo posto in classifica. Una situazione che evidentemente mortifica i giocatori dell'Inter che anche ieri, almeno per quei pochi che hanno rilasciato dichiarazioni alla fine, non sanno come uscire da questo momento perché non sanno realmente che cosa possano fare di più per cercare di mettere da parte qualche punto prezioso in classifica. Non si parlerà più di Scudetto d'ora in avanti, immagino anche ad Appiano Gentile perché il Ranieri ieri è stato abbastanza morbido in questo senso, però la situazione di classifica è tale che parlare di Scudetto sembra abbastanza fuori dalla realtà. Bisogna concentrarsi sull'immediato, c'è il Lille e per quanto riguarda la stretta attualità questa mattina la squadra è tornata al lavoro per concentrarsi sulla partita con i francesi che in caso di vittoria regalerebbe di fatto l'ipoteca alla qualificazione. Da valutare nelle prossime ore le condizioni di Snyder che è rimasto alla pinettina circa tre quarti d'ora e di Cambiasso che ieri è uscito malconcio per un contrasto con Del Piero nei minuti di recupero ma per entrambi non dovrebbe trattarsi di nulla di serio, da valutare anche Thiago Motta che oggi ha lavorato sempre a parte e che ha saltato la Juve per affaticamento. Dovrebbero tornare a disposizione sia Ranocchia che Samuel in un Inter che però come detto non avrà Giulio Cesar, non avrà Forlana che è comunque infortunato ma inutilizzabile in Champions, tanti altri giocatori importanti e soprattutto Maicon che si è fermato questa mattina, come detto, la notizia dell'ultima ora è il brasiliano che si è fatto male, altro infortunio muscolare, un po' come succedeva un anno fa ai tempi di Benitez. Grazie Massimiliano, grazie Massimiliano Nebuloni, torneremo comunque a parlare tanto delle partite.